Oggi il governo italiano ha rispettato un altro impegno preso con gli italiani. Nel programma di centrodestra noi avevamo scritto che avremmo riformato la giustizia e oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge costituzionale per avere finalmente una giustizia più equa e più efficiente. In molti hanno detto e scritto in questi mesi che noi non avremmo mai avuto il coraggio di presentare questa riforma che è una riforma attesa da decenni. Evidentemente ancora non conoscono la nostra determinazione. Quando è giusto fare qualcosa nell'interesse dell'Italia e degli italiani noi semplicemente la facciamo. Ma certo varare questa riforma dopo 30 anni che se ne parla è un risultato epocale. Cosa prevede il testo? Innanzitutto prevede la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri in modo da differenziare finalmente il percorso di chi è chiamato a giudicare i cittadini da quello di chi ha l'incarico di muovere le accuse e rendere così più equilibrato il rapporto tra difesa e accusa nel corso del processo. La seconda novità riguarda la modalità di selezione dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura cioè dell'organo di autogoverno della giustizia quello che decide i concorsi, le carriere, i trasferimenti e fino a oggi le condotte disciplinari dei giudici perché l'attuale meccanismo di composizione del CSM ha purtroppo creato un sistema dominato dalle correnti della magistratura che ne ha minato la percezione di indipendenza e ha penalizzato quella stragrande maggioranza di magistrati che vogliono solamente fare bene il loro lavoro senza per questo doversi piegare alla logica delle dinamiche politiche o delle dinamiche correntizie. Per rompere il meccanismo delle correnti noi prevediamo che i componenti del CSM vengano selezionati per sorteggio con modalità che saranno stabilite dalla legge. Il terzo e ultimo cambiamento riguarda la costituzione di un nuovo organismo indipendente che è l'alta corte disciplinare. Avrà il compito di esprimersi sugli illeciti dei magistrati sottraendo questa attività al CSM in modo da superare la criticità registrata finora di un sistema anche qui condizionato dal correntismo e che quindi tende a non sanzionare mai neanche le violazioni più grosse. È una riforma giusta, necessaria, storica. E si aggiunge alle altre riforme che questo governo ha già parato come la riforma del fisco, la riforma istituzionale. Continueremo così perché in questa nazione le cose che non funzionano bene vanno cambiate e più cercheremo di cambiarle più le forze della conservazione si muoveranno contro di noi ma non abbiamo paura. Noi siamo qui per fare quello che va fatto e alla fine di questo lavoro saranno i cittadini a doverci giudicare. Il disegno di legge approvato oggi in CDM passa ora al Parlamento che dovrà esprimersi per consegnare il prima possibile all'Italia una riforma che vuole ridare piena fiducia agli italiani nella magistratura assicurando i principi di indipendenza e parità tra accusa e difesa.